Salve, sono Alessio Surian, lavoro all'Università di Padova e in questo video provo a riflettere su un paio di lezioni che abbiamo in qualche modo potuto tirare da questi 100 giorni in cui abbiamo vissuto una situazione di lockdown, di confronto con questa pandemia rispetto all'educazione. Parto dall'educazione formale, penso che una prima cosa che abbiamo potuto osservare è stata la varietà di risposte tutte all'interno di un pensiero abbastanza unificato che l'unica risposta potesse riguardare un'educazione a distanza che abbiamo visto somministrata con piattaforme le più diverse per la maggior parte dei casi regalando dati a privati senza una politica nazionale, probabilmente anche senza una razionalizzazione dei costi. Questo credo sia un fattore grave pensando alla tenuta di un settore di educazione pubblica che è sempre in affanno dal punto di vista economico e al di fuori di pochi centri molto poco riflessivo dal punto di vista di che cosa sia poi in realtà un processo virtuoso di educazione blended che mette insieme metodologie sincroni e asincroni ed educazione a distanza con gli altri ambienti di apprendimento e questo credo che sia il grande assente trasversale da questa riflessione come mai al di là dell'ambiente scuola inteso muratura l'ambiente naturale, l'ambiente di casa, l'ambiente quotidiano non venga considerato una risorsa importantissima e forse fondamentale e forse addirittura primaria nel pensare i processi di apprendimento, in particolare in un momento in cui è evidente che la pandemia ci mette sotto gli occhi di tutti il rapporto non certo virtuoso con l'ambiente naturale. Queste credo che siano sfide che vanno in qualche modo raccolte e che vanno al di là semplicemente del ragionamento su che tipo di valutazione permette di salvare la validità di un titolo di studio. In questo senso credo che abbiamo imparato l'importanza del poter costruire, legittimare degli spazi di riflessione, di comunità di pratica e credo che questo sia venuto più dal basso in questo periodo, sia stato particolarmente fertile e ci abbia insegnato di quanto abbiamo bisogno di spazi in cui i diversi punti di vista vengono innanzitutto ascoltati, riflettuti per provare ad esplorare anche soluzioni inedite e soprattutto per provare ad aiutarsi a livello locale e a far tesoro delle opportunità, delle risorse che a livello locale ci sono e possono essere costruite. Questo credo vada nel senso di una riflessione sul mondo dell'educazione inserito nel contesto più ampio del che cosa vuol dire fare salute, che cosa vuol dire occuparsi individualmente e collettivamente delle dinamiche sociali e di un modo di leggere la parola, leggere i contenuti della scuola che sia profondamente intersecato alla lettura del mondo e ci rendiamo conto oggi di quanto è importante che questa lettura sia critica in un paese in particolare come l'Italia, dove si spendono tutti gli anni quasi 30 miliardi di euro in armi e decisamente invece mancano le risorse per servizi essenziali. Grazie.